Il tamburo più grande che abbiamo è nel nostro petto ed è il cuore. Buonasera, queste sono parole del nostro ospite che si deve avere un cuore enorme, considerato che lui è diventato uno dei musicisti più influenti, acclamati, uno dei batteristi più bravi al mondo. Non male davvero per chi sale sfangata sempre da solo partendo da un quartiere povero di Napoli. Signore e signori, allo specchio oggi ho il piacere, il mio cuore è già andato in uno stato di swing febbrile, Tullio De Piscopo. Buonasera e benvenuto. Accelerato, il mio cuore è accelerato, Tullio, ci diamo del tu, va bene? Ma scherzi, ci mancherete. Ho sbagliato a dire che te la sei sempre sfangata da solo e che sei partito da un quartiere povero di Napoli. Ci porti a Porta Capuano, che mondo era? Che meraviglia, bellissima, è un'isola felice. Tu pensi che in questo quartiere c'era tutto il mondo, cioè Castel Capuano. Il vecchio tribunale però erano dei palazzi antichissimi. Dall'altra parte della piazza l'apertura, la stazione centrale, i tram provinciali e i pullman provinciali, la circunvesuviana che portava nei paesi del Vesuvio. C'era tutto, 189 pizzerie. Tutto avveniva a Porta Capuano. Che meraviglia. Perché tutti arrivavano lì e poi da lì si spostavano. I suoni di questo quartiere come entravano alla finestra di casa tua? Dov'era la casa tua? Era un inferno perché praticamente ti immagini di clacson, le macchine una sopra l'altra. Era enorme, capito? Le ambulanze non passavano nemmeno, intanto non potevano passare. Ti dovevi arrangiare, capito? Personalità forti. Anche quando ti facevi male per andare all'ospedale ti dovevi arrangiare. E tu eri un ragazzino che si è cresciuto in quel quartiere. Era stupendo, però era un quartiere povero. Chi viene dalla strada ha più fame di emergere. Sì, ma io penso in tutte le città del mondo. Chi viene veramente anche nel calcio. Chi ha veramente fame, quello vince. Chi ha vinto, chi prende tanti soldi, si blocca a un certo punto. E il Napoli sta andando forte, tra l'altro. Quest'anno, ma terrà perché poi a primavera ogni tanto molla, può succedere. Ma guarda, io devo essere sincero, anche se non tiene, io mi sto divertendo troppo. Te la godi comunque. Si basta. Io prendo una partita e me la vedo 4-5 volte. Tullio, tu comunque da questo quartiere, dalla città di Napoli, poi te ne sei andato. Eri un ragazzino, 13-14 anni, te ne sei andato. Quindi la città di Napoli, che così tanto ti ama adesso, però quando eri un ragazzino dovevi lavorare, ti ha espulso. Tu per inseguire il tuo sogno hai lasciato la tua città. No, non è che mi hai espulso, è che io amavo, i miei sogni erano altri da bambino. Io sognavo di diventare qualcosa, perché c'era il letto matrimoniale di mio padre, mia madre. Romeo non c'era più, mio fratello. Poi c'era il lettino dove dormivamo. Io e Antonio Tonino, l'altro mio fratello, che poi è diventato ragionieri, suonava anche lui la batteria ed era molto portato per lo sport. Qualsiasi cosa lui faceva nello sport, vinceva sempre. Le cose che io sentivo la notte, tremende, la notte era tremende, o sono la luce, o il gas, o il padrone di casa vuole aumentare. E io sentivo tutte queste cose, diceva, questo a me non deve succedere, io sarò questo, io sarò quello. Poi prendevo i dischi di Max Roach, il grande papà di tutti noi, lo guardavo, lo baciavo. Tu pensa che poi nell'89 io ho suonato con Max Roach, una cosa, i sogni, no? I sogni. E quindi non c'era spazio a Napoli per fare il jazz, la musica che io tanto amavo, ma non c'era spazio neanche per fare certe cose con la batteria. Perché molti proprietari di locali dicevano, vi raccomando, non fate venire quel depiscopo, fa troppe cose con la batteria. Però i Marines al porto di Napoli, le sonorità americane le portavano nei nightclub. Tu hai cominciato lì a suonare la batteria. Sì, sì, anche lì. Anche. Lì funzionava, con i Marines funzionava, perché loro facevano delle richieste. Anzi, quella lì, devo dire che è stata una palestra incredibile. Quanti anni avevi quando andavi a suonare, facevi notte nel nightclub? No, avevo 14 anni. Non potevo neanche lavorare, eppure lavoravo. Ma è stata una palestra incredibile perché hai imparato gli standard. Tu sai che esistono i real book? Il real book era quello, quello vero. Era quello, sì. Perché ti facevano le richieste, tu dovevi impararlo. Se certi pezzi, il pianista non li sapeva, il giorno dopo facevamo le prove, perché quelli ritornavano, quei Marines. E quindi abbiamo imparato tutti gli standard. Però poi a Milano, sì, è una città che invece era già più pronta ad accogliere certe sonorità. Tu sei passato anche da Bologna, dalle sale da ballo. Quindi sapevi fare tutto. Prima ancora ho fatto lavaspettacolo. Sapete cos'è lavaspettacolo? È una compagnia di teatro, teatrale. Quindi c'era questa compagnia, l'orchestrina di quattro elementi in buca. E poi finito lo spettacolo c'era il film. E poi si riprendeva da capo. Aspettà e film. Pensa quanti film mi sono visti. Anche quello è stata una grande esperienza per la lettura della partitura a prima vista. L'abbiamo visto anche con delle big orchestra. Occhialini, batteria di qua a leggere. È una cosa fondamentale, assolutamente. Milano ti ha preso a pugni in faccia all'inizio perché la narrazione ci racconta di un'emigrazione operaia. Che emigrazione era quella artistica? Cioè, brutalmente detto, il terrone inurbato. Allora non c'erano nell'ambiente dei musicisti a Milano, ma soprattutto nell'ambiente dei session men, cioè quelli che suonano nei dischi per altri. Non c'erano tanti napoletani. Però è stato molto difficile all'inizio poter entrare nel giro. Era quello che io sognavo anche di fare. E ho avuto degli ostacoli, solo la mia forza e la mia capabilità. Se non c'era quella, tornavo a casa. Tu hai citato Max Roach, poi i tuoi riferimenti, c'era Miles Davis, poi tu hai suonato con Chad Becker, con Jerry Mulligan, con Dizzy Gillespie... Chad Becker, Jerry Mulligan, Charlie Parker... Charlie Parker, proprio i mostri sacri. Non avevi neanche 25 anni e tutti ti volevano. Questo va detto e ti è anche riconosciuta questa cosa. Però poi alla fine è vero, uno sente le sonorità americane, però una propria strada bisogna trovarlo. Perché Tuvo Fallo americano è un classico in Italia. Bobby Solo, quando cantava, da una lacrima sul viso, imitava Elvis Presley. E Caparezza imita Eminem un po'. Giussi Ferreri è un po' la Amy Winehouse in salsa italiana. Tu, è stato importante quel passaggio, cioè riuscire a sganciarti un po' dall'emulazione per trovare una tua strada, che poi è diventata di grande esuberanza tecnica e anche di cuore. Cos'è successo che quando ci sono arrivati all'inizio dei settanta, i primi registratori a cassetta, io sono andato a suonare, ho detto, mi registro. Dopo, quando ho ascoltato la registrazione, per carità, sì, bello, però un po' suonavo a Pasquale, a Nicole, a Elvin Jones, a Max Roach, a Kenny Clark, a Tony Williams. Non c'era una personalità. E quindi mi sono scervellato sullo strumento a casa, che avevo anche una batteria di gomma, sempre pronta per poter studiare. La prima cosa che ho fatto, ho messo i famosi cinque colpi sullo strumento e sulla mia musica. Cioè, posso? Sì, come no. I napoletani, quando c'erano i giacobini, i francesi, che sentivano questi tamburi muti, senza la cordiera, sentivano questi cinque colpi, Maron, Currim, a chi annaccir? Portavano al patibolo, in piazza del mercato, qualcuno. Poi più in là, i napoletani, grandi napoletani. Questi cinque colpi li sfottevano. E io ho preso questi cinque colpi, li ho portati sulla batteria. da lì ho trovato la mia personalità, quindi la mia personalità, anche attraverso i famosi rumori di Porta Capuana, attraverso i rumori di Napoli, gli umori della gente. e quindi ho fatto questa grande fusione, che poi ha raggiunto anche Levette, nell'incontro ovviamente con Pino Daniele. Tu hai incontrato grandi personaggi, e tu hai anche reinterpretato il ruolo del batterista, uscendo un po' dal prototipo del batterista, da sfondo scenografico, che tutt'al più tiene il tempo, e semmai fa l'occhiolino a una ragazza in prima fila. Un musicista molto esuberante, ma cosa succedeva quando tu incontravi Battiato, Mina, Giannaci, mi viene in mente Celentano, come erano quei laboratori creativi? Perché tu non eri uno che eseguiva e basta, non ti limitavi a fare il session man, il turnista, o andare in studio di incisione. Lì è stato importante, perché sono stati poi creati assieme anche agli arrangiatori. Con Mina abbiamo fatto delle cose incredibili, c'è quel disco plurale, dove lei fa 16 voci, una tecnica... Mina che abita a Lugano. Io penso che mai nessuno ha fatto una cosa così, stavo io alla batteria, però la cosa bella con Mina, per esempio, era che lei cantava nelle cuffie, e quindi io seguendo lei sapevo che strada prendere con lo strumento. Poi lei dopo, in plurale, aveva messo tutte le sovrapposizioni, ma anche in tutti gli altri dischi, altri pezzi che abbiamo fatto con lei. Lei ci dava sempre la guida ed era importante. Con Battiato abbiamo fatto uno dei dischi più importanti, il primo, è quello che ha dato il là alla nuova era di Battiato, che era l'era del cinghiale bianco, di Andrè Rimini, un disco... Commuovì. Gli Annacci, 10 LP con Gli Annacci. Con Astor Piazzola, 12. Astor Piazzola è stato... L'abbiamo sentito in entrata, il famoso Libertango. Io mi commuovo sempre quando sento quelle note lì, perché quando lui venne in studio, io non sapevo neanche chi era, penso che è ignorante. chiesi a Marco Ratti qualche giorno prima se Marco Ratti era un grandiosissimo contrabbassista e musicista di Milano, ma ci sei anche tu in questa registrazione? Mi hanno convocato alla Mondial. Dicevo, no, ma chi è? Ma deve essere un fisarmonicista romagnolo. Mi hanno detto... Ma come si chiama questo fisarmonicista? Ma un certo Astor, già il nome è un po' romagnolo, Astor Piazzola. Ma Astor Piazzola, Astor Piazzola. Astor Piazzola. Tullio, se è Astor Piazzola, innanzitutto non suona la fisarmonica, ma suona il bandone in una maniera incredibile ed è il più grande musicista del Novecento ed è famoso anche che manda a casa i musicisti se non stanno in sintonia con la sua musica. incominciamo bene quando è arrivato in studio c'era un po' di timore anche vedevo anche gli altri musicisti ha dato le partiture come si fa poco la mia partitura l'aprivo piano piano non c'era scritto niente poche cose lui mi ha guardato e dice scusa io ho mai usato la batteria non so neanche cos'è la batteria nel tango si usava il guiro un triangolo un bombo ma mai batteria assieme ho capito ma io devo sentire qualcosa come faccio a capire cosa devo suonare lui apri questa scatola di legno tirò fuori la magia cominciò a fare degli archi col bandone e attacca e ho detto continuo mi faccio dare una cuffia entro nella cabina c'era la cabina per i batteristi in modo che la batteria non rientrasse negli altri microfoni e subito ho fatto quel ritmo che conosciamo si che è pazzesco è diventato quello lì subito l'ho fatto lui ha affermato bueno questo è il nuovo tango si è stato incredibile ovviamente incredibile e da lì abbiamo fatto certo la collaborazione che prima o poi sarebbe dovuta arrivare perché tu eri molto impegnato con Pino Daniele vi siete per dirla in dialetto ticinese vi siete usmati un po' prima di collaborare adesso io ti riporto al 1983 una registrazione che vede ovviamente Tullio De Piscopo con una canottiera anni 80 e una cosa è e ovviamente Pino Daniele produzione RTSI televisione svizzera a Zurigo e vedi un po' e va bene sai è il doppio pedale a Gran Cassa o no? mamma mia ma io penso che c'erano addirittura addirittura c'erano due Gran Cassa quella era la Perla eccolo Pino Daniele Tullio la tua vita abbiamo già raccontato finora è stata incostellata veramente di successi pazzeschi anche tu sei passato a produrre a scrivere musica andamento lento è stato un grande successo però la vita non è fatta solo ovviamente di gioie io volevo evocare il tuo libro sai che andamento lento non si chiama più andamento lento come si chiama? santo andamento lento santo andamento lento ha dato la possibilità certo di comprare una casa e i caracchi Sanremo 1988 la mia famiglia si meritava e quindi sei riuscito a riscattare quella tua origine un'origine che tu racconti in un libro anche commovente per tanti aspetti titolo tempo la mia vita perché nel 2014 hai deciso di raccontare e raccogliere in un libro la tua vita? ma perché non stavo bene dopo che era successo il tumore del 2012 e l'ho tenuto troppo nascosto troppo dentro dovevo fare qualcosa non stavo bene dovevo gridarlo devo dire che attraverso le pagine di questo libro ho tirato fuori tutto gridato e ha fatto anche un bel successo questo ma perché hai scritto tra l'altro racconti anche le pagine oscure della tua vita in questo libro anzi sembra proprio basato i capisagli di questo libro sono proprio le pagine oscure della tua vita questo serve ai giovani sì tu hai parlato di questo tumore al fegato diagnosticato nel 2012 mi risulta ma chiedo conferma a te che avevi preso anche in considerazione la possibilità di procedere con una eutanasia da realizzare in Svizzera ti hai scritto nel libro sì era arrivato pure a questo perché sai quando ti dicono ti danno una diagnosi ferrea non c'è niente da fare io non volevo dare fastidio a nessuno non volevo pietà a nessuno ma poi subito dopo ho detto io non sono pronto non sono pronto ti stanerò per fortuna è andato è andato tutto bene sto vedendo crescere i miei nipoti che li amo tantissimo avevi deciso di non curarti in sostanza sì perché la diagnosi era feroce molto feroce nel libro racconti ti avevano dato sei mesi di vita sì era era feroce non sapevo avevo lavorato io tante volte con associazione le fondazioni o lus ma non mi veniva un nome quando mi diedero mi diedero la diagnosi tremenda quando mi dissero che non c'era niente da fare non sapevo dove andavo non sapevo un nome niente è stata è stata la madonna che ci ha aiutato e soprattutto l'amore la musica perché come me le sono accorto io di queste è stata la madonna perché io andavo avanti avanti e non me ne accorgevo anche perché non è che stavo male male andai a trovare un mio amico all'ospedale di Munza l'urologo venne a sapere che io stavo in ospedale lo potete portare qua dopo mi chiesero se potevo andare alle 19 ho detto no guarda sono stato qua quattro ore vado a casa ma un autogra vabbè andiamo gli diedi come posso sdebitarmi ma va bene insomma lui alla fine mi fa una visita e dice che andava tutto male la prostata eccetera eccetera e poi invece quando sono andato a Napoli dovevo suonare in Campania e in Basilicata non mi sono sentito bene perché questo di Munza mi aveva dato delle pastiglie per questa prostata che non andava bene non stavo bene ho parlato con questo urologo in Campania dice beh sei qua vieni qua ne parliamo quando sono andato mi dice ma è tutto a posto non c'è niente flussometria perfetta ti avevano detto che era tutto sballato la prostata è incredibile bellissima e sale comincia a salire sale diventa nero scuro sale sul fegato ha cambiato espressione e non ha parlato è andato a scrivere scriveva scriveva ma non mi ha detto niente e lì è incominciato il dubbio chi è stato chi è stato a fare diagnosi di sbagliare tu porti un rosario al collo ti è stato utile anche quando hai perso tuo fratello il libro una pagina del libro sono dedicate a fratello Romeo che avevi perso da ragazzino e sembra essere una ferita che non è mai guarita mai ti viene a trovare ancora tuo fratello ogni tanto guarda il mese scorso ho scritto un post su su facebook perché avevo trovato una bellissima foto di di Romeo vent'anni avevo e ho scritto ti sto aspettando da 65 anni perché mi mi piacerebbe tanto ascoltare la sua voce una registrazione dicono che era uno dei più grandi batteristi di tutti i tempi il grande maestro Enzo Restuccio che è il papà di Marina Rei batterista che conosceva bene mio fratello disse tu non hai idea come suoniamo noi adesso lui suonava nel 56 e quindi è una ferita sempre aperta una ferita aperta sì ma io lo sento quando suono io a volte mi fermo con le mani le mani vanno è lui ma hai visto quella roba io non sarei capace adesso di fare ti ha fatto piacere rivederti con un certo interesse con un certo interesse dice cacchio però ero bravo bravo e sei bravissimo però questo musicista a un certo punto va a Pordenone a fare servizio militare io vorrei capire perché gli artisti sono sempre un po' contro qualcuno piccompino Daniele che gli è so pazzo a un certo punto si dice non c'è scassato il cazzo ma io volevo sapere ma quel verso non c'è scassate ecco era rivolto verso chi ma era rivolto un po' a tutti soprattutto a tutti quelli che promettevano la città di Napoli soprattutto a tutti quelli che dicevano di fare qua di fare là e poi non facevano niente e quindi lui dice io sono pazzo lasciatemi stare oggi devo parlare allora se parlare non c'è scassato il cazzo ma magari era rivolto anche ai padroni della musica che decidevano chi e chi no chi si e chi no che Pino prima di arrivare non ci dimentichiamo che era in dialetto napoletano non è facile fare un disco in dialetto e venderlo così come ha venduto lui anche lui ha fatto una grande cavetta nel 2013 siamo stati in tournée in tutto il mondo eravamo sull'attico di casa sua a piazza Mazzini lì sotto ci sono i giardini vedi hai visto la tournée ogni tanto c'è il mercatino su pelletti li vado a comprare e io dormivo la notte ma davvero perché poi avevo l'appuntamento al mattino con la casa discografica qui dietro c'è un pizzicagnolo la salumeria che mi dava il panino con la ricotta gratis adesso è il mio salumire quindi vedi una storia incredibile però quando uno un calciatore un musicista un giornalista c'è dentro viene fuori capito Milano se hai dentro questo ti dà anche se non ti danno una stanza per dormire perché te sen terun come dicevano a Milano terun terun dagal terun dagal terun Tullio noi stiamo arrivando in conclusione di questo incontro ipnotico per me veramente perché questa qui tu parlavi di questa questa era di Pino Daniele questa se tu vai a vedere certe foto vedi che Pino ce l'aveva sempre a collo il famoso tumore che stavi parlando prima io dissi una bugia al manager perché dovevamo andare a suonare a Napoli io dissi continuate col mio nome perché stava andando bene l'evento anche delle date in più continuate col mio nome ma devo fare un'interventina una fesseria lo dissero a Pino e Pino dice come come che ha detto Tullio che la fesseria cosa da niente non è vera non ve l'avrebbe detto perché doveva dirvelo se era una fesseria prenotatemi il treno ed è venuto all'ospedale mi ha trovato in quelle condizioni e me l'ha messo a collo e poi purtroppo nel 2015 Pino se n'è andato Tullio dai mio fratello Tonino poi faceva la lotta greco-romana ogni tanto in casa quindi Romeo e Tonino nella tua famiglia quando Romeo non c'era più ogni tanto facevamo la lotta 篤a io e lui ma era un campione lui e che è sta roba non lo so guarda quando ho detto viene Tullio De Pisco come ha fermato mi dicono che i batteristi sa suonare di tutto è vero lo vuoi lo vetto o no lo fai tu no lo so no lo so che grande invidia sai che tutti suonano uno strumento è stato un momento per me veramente sono onoratissimo la musica è incredibile mi ha salvato la vita eh sì Tullio davvero ti ringrazio e questo libro qua è veramente un bel libro noi chiudiamo sempre le nostre interviste con un biscottino della fortuna contiene un messaggio lo devi spezzare biscottino della fortuna lo spezzi contiene un messaggio e vediamo ma lo devo scegliere io assolutamente non è che sono tutti uguali sono tutti uguali pensavi ti stessi fregando vediamo un po' che cosa dice lo apro? sì guarda spaccalo pure sì che le mani forti ce le hai però sei delicato nell'aprire questo biscottino inglese e italiano riesci a mettere i tuoi occhiali multicolor the rainbow the rainbow over the rainbow che ritmo daresti over the rainbow tu? ma deve essere dolce 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 musica bellissima allora da una parte in inglese dall'altra parte in italiano ecco che dice? bella è bellissimo siamo curiosi che dice? dice questo vivrete sani e felici allora siamo a posto incredibile veramente stavamo appena parlando stavamo parlando di queste cose che meraviglia grazie Tuglio grazie a voi grazie poi ti vedremo in Svizzera tu giri tantissimo se non suoni spero di venire ho bisogno della adrenalina il jazz cat club di Ascona ti abbiamo visto abbiamo visto che con la RTSI comunque hai fatto tante cose io ho bisogno sempre di suonare per avere l'adrenalina pura batteria che sono sempre diverse o no? perché il violinista usa sempre il suo strumento il chitarrista anche il cantante pure la sua voce tu ti ritrovi la tamburo la sonor la tama la ludwig tutte batterie però alla fine che conta l'abbiamo visto adesso è il cuore il tamburo più grande che abbiamo è nel nostro petto il patapoof grazie Tuglio grazie anche a voi grazie a voi ci rivediamo la settimana prossima buona serata oh yeah oh yeah e chiudiamo con lo specchio con Tamborini Vini e la sua vinoteca con un ampio assortimento di prodotti per ogni gusto Tamborini Vini Lamone